È logico che quando si va ai calci di rigore è un po' una lotteria, è normale che la partita penso che noi l'abbiamo interpretata bene sul campo perché sapevamo di avere di fronte un avversario molto fisico e di fatti siamo andati un po' in difficoltà sulle palline attive e è un avversario che dal punto di vista muscolare aveva qualcosa più di noi oltretutto è logico che a questo punto del torneo qualche giro di motori in meno ce l'avevi a livello di brillantezza però sono stati bravi proprio a livello mentale a rimanere in partita a rimanere concentrati fino all'ultimo rigore. Abbiamo affrontato gli ottavi di finale del Viareggio con delle assenze importanti perché oggi mancava Diaponga, Zecca, Pierini in ultimo pochi avevano affaticamento che per noi sono giocatori importanti, mancavano i due difensori centrali e è logico che abbiamo dovuto ricorrere comunque anche ai giocatori della Beretti che però si stanno dimostrando all'altezza e questo fa ben sperare anche per il futuro. La consapevolezza dei nostri mezzi penso che questa squadra ne avesse perché sono praticamente un anno e otto mesi che è dentro ai playoff e per una società come il Sassuolo non è una cosa semplice perciò in campionato da l'inizio della stagione scorsa che siamo tra le prime in classifica perciò questa è praticamente lo stesso gruppo perciò è consapevole di poter fare qualcosa di buono. Un traguardo storico il Sassuolo mancava una semifinale al Viareggio cosa racconterai ai tuoi ragazzi e come la preparerai? Vedremo adesso cercheremo innanzitutto di recuperare le energie psicofisiche che abbiamo speso e penso che sia un traguardo importante per la società che comunque sta facendo dei passi da gigante da un po' di anni e comunque vedere una propria squadra la primavera in semifinale al torneo di Viareggio penso che sia una bella soddisfazione proprio anche per la proprietà e per la società. Brian mille emozioni ma cominciamo proprio dalla fine ti sei trovato di fronte il portiere dell'Inter gli hai parato il rigore poi è toccato a te? Noi di solito noi portieri lo tendiamo sempre a incrociarlo quindi ho provato questo è andata bene poi io alla fine siccome lui aveva incrociato ho sperato che andasse di là ho tirato bene ho fatto bene. È stata un'emozione bellissima però ce lo siamo meritati abbiamo fatto una grande prestazione si vede che siamo un gruppo e quindi ce lo siamo meritati. Sarebbe stato anche un peccato uscire ai rigori può sempre succedere ma saremmo usciti da imbattuti invece si va avanti c'è una semifinale storica il Sassuolo mai era arrivato a questi livelli al torneo di Viareggio? Sarà una bella sfida e ce la metteremo tutta come abbiamo fatto in queste partite. Noi lo sapevamo che l'Inter è una grande squadra e ce l'abbiamo messa tutta e penso che abbiamo fatto una grande gara e abbiamo meritato di vincere. Noi fin dalla prima che abbiamo giocato puntavamo sempre al massimo e a vincere certo adesso ancora di più però non temiamo nessuno. Stiamo bene prendiamo tutto il tempo necessario per recuperare anche gli altri sono stanchi. Il tuo affiatamento con la squadra cresce partita dopo partita a che punto ti senti? Normale era appena arrivato magari non riuscivo a dare il massimo ma adesso che anche siamo stati tanto insieme in ritiro ho molto più affiatamento con il gruppo. Grazie. Grazie.